Lo scrittore Andrea Camilleri, 93 anni, è in reanimazione all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici, condizioni critiche, respira con l'aiuto delle macchine. Punti avverte Bruxelles, Diagolo è aperto, ma sui contenuti teniamo il punto no al dominio della finanza Salvini e andiamo a Bruxelles da pari a pari. L'ex presidente egiziano Mohamed Morsi, morto durante un'udienza in tribunale, proclamato lo stato di massima allerta nel paese. In Sardegna vince il centro-destra, Cagliari sindaco Truzzo, Fratelli d'Italia, ma il centro-sinistra vuole il reconteggio dei voti, Sassari al balottaggio. Venerdì plenum straordinario del CSM con il capo dello stato Sergio Mattarella dopo le inchieste che hanno travolto giudice e politica. Punti saluta la Roma e accusa, mi dimetto avrei preferito morire, mi hanno tenuto fuori da tutto, valuto altre offerte, la Roma è versione distorta dei fatti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.